Ciao cari amici, bentornati a Un tè con Elena. Oggi vi voglio consigliare un libro di una grande, grandissima studiosa. Allora, voi sapete quanto io ami la storia e la ritengo fondamentale per comprendere non solo il passato ma anche il presente e magari qualcosino sul futuro. Il libro che vi ho portato oggi appunto è una grandissima studiosa, una grande donna, grande, di una certa età, mi sembra abbia già 87-88 anni, ho avuto occasione di sentirla dal vivo a uno degli eventi di Voci della Storia, sapete quella rassegna infinita che ogni volta propone nuovi appuntamenti sempre più ricchi, creata da Eva Musci e Antonio Zappa, il mio amico della libreria Un mondo di libri di Seregno, un po' di pubblicità, Galleria Mazzini 1. Allora, la grande donna e studiosa di cui vi parlo oggi è Eva Cantarella, che è veramente quello che si definisce un pozzo di scienza. È una storica, conoscitrice profondissima del mondo classico greco e romano, giurista, sociologa, tanto come giurista ha insegnato diversi anni diritto romano e diritto greco antico, non solo in Italia, soprattutto a Milano, ma è stata anche visiting professor in diverse università, credo, negli Stati Uniti. È una grandissima conoscitrice, ma come tutte le persone che veramente tengono stretta nelle mani la loro conoscenza, la divulgano in una maniera assolutamente comprensibile e piacevole per tutti. Il libro che vi ho portato oggi, che probabilmente non è recentissimo, ma io l'ho ritirato dall'Antonio Bodiquandè, dunque, del 2014, prima edizione Universale Economica 2017, io l'ho comprato l'altro giorno, e vedete, Universale Economica Feltrinelli, Eva Cantarella, perfino Catone scriveva ricette. Questo libro, librino come dimensioni, grande libro come opera, raccoglie tutta una serie di studi precedenti, per cui mini saggi, aneddoti, cose assolutamente interessanti e godibilissime, per far sì che noi si possa percepire, si possa sentire, gli abitanti del mondo classico, i nostri straantenati, no, grece e romani, molto vicini a noi. E come lo fa? Lo fa appunto raccontandoci tutta una serie di aneddoti e non solo, su quella che era la vita quotidiana dei greci e dei romani antichi, su come vivevano, sulle loro abitudini, anche quelle private. Ci sono tanti capitoli, ci sono anche, credo, una sicuramente, ma forse anche di più, ricette, da cui il titolo, persino Catone, scriveva ricette. Su vari capitoli che vanno da, vedete, città, campagne e viaggi, superstizioni e magia, come vivevano la cucina, dalle ricette, come si consumavano i pasti, feste e rite, le abitudini che avevano legate alla bellezza, alla cura del corpo. Ovviamente si parla anche di bellezza e seduzione, quindi come vivevano la seduzione, l'innamoramento, la sessualità, i nostri pre-avi. Allora, è un libro estremamente piacevole, dove la storia e quindi la cultura, la conoscenza profonda, diventano materia di condivisione piacevole. Tra l'altro, io dico sempre che per me è molto importante, nelle occasioni conviviali, quando si è, per esempio, a cena a un aperitivo, è anche bello parlare non dei gossip legati a, scusate, voi sapete che io ho delle fisse, proprio un capitolo di quello che va di moda adesso, che io abolirei, sono, per esempio, nei vari reality, ovviamente Temptation Island, cose terribili. È bello portare cultura in maniera piacevole, diffonderla, perché in una conversazione fra amici, magari quando si parla appunto di innamoramento del conoscente o del piatto che stiamo mangiando, riuscire a fornire degli spunti di conversazione colti, ma piacevoli, leggeri. Poi si fa sempre anche una, come dico io, con un termine non bellissimo, porca figura. Allora, leggetelo, perché è veramente piacevole, leggero, potete leggerlo anche spiaggia, senza troppo impegno, eppure è cultura e conoscenza profonda. Eva Cantarella è una, ripeto, grande donna, grande studiosa, ottima divulgatrice, per cui vi consiglio assolutamente questo libro, di Eva Cantarella, perfino Catone scriveva ricette, universale economica Feltrinelli, costa pure poco, 9,50, per cui manco il prezzo di un aperitivo. Allora, detto questo, amici, il libro sicuramente vi piacerà. Se vi è piaciuto anche questo breve video, mettete un like e soprattutto, altrettanto spero piacevole, rinfrescante ed economico, anzi gratis, il mio canale YouTube Un Tè con Elena. Iscrivetevi se vi incuriosisce quello che racconto. Ciao cari amici, a presto!